Ciao, buongiorno, sono Marina Falchieri di Ennegan Luce e Gas. Oggi voglio suggerirti 5 importanti domande da porti per la scelta migliore del tuo prossimo fornitore energetico per la tua abitazione. Non ti preoccupare, non ci sarà alcuna interruzione di servizio, anzi non te ne accorgerai proprio. Ennegan ti garantisce, dopo la sottoscrizione del contratto, il passaggio alla fornitura entro 60 giorni. Sicuramente con Ennegan la qualità dei servizi. Poni attenzione a quello che sono i servizi offerti dal tuo attuale fornitore. Ennegan, per esempio, offre in maniera completamente gratuita ai propri clienti l'intervento di un elettricista, di un idraulico, di un termoidraulico e di un fabbro in caso di guasto. Semplice, chiara e trasparente. In questa maniera avrai sotto controllo ogni mese i tuoi reali consumi. Con Ennegan raggiungerai un ottimo livello di risparmio, perché Ennegan ha la possibilità di farti una consulenza personalizzata sui tuoi reali consumi. Con Ennegan hai a disposizione due ottimi strumenti. L'area clienti dedicata, Ennegan Mia, e l'app sul tuo telefonino.